Cosa c'è dietro la nuova aggressione del peschereccio italiano a largo delle coste cipriote? Vittima anche in questa occasione un'imbarcazione della flotta Giacalone di Mazzara del Vallo, presa di mira da pescherecci turchi a largo di Cipro. Anche in questo caso il peggio è stato evitato. All'indomani dell'incidente, Federpesca e tutti gli operatori del settore chiedono garanzie. L'invito del governo per il momento è quello di evitare rotte rischiose, visti gli atteggiamenti aggressivi di alcuni paesi, nella fattispecie Libia e Turchia, che hanno allargato in modo unilaterale le proprie zone di pesca. Il premaggio scorso un altro peschereccio Giacalone era stato attaccato dalla Guardia Costiera Libica.